Allora, come va? È una vita o non ci si vede, eh? Ma sai, se tu tenessi aperti una rara di più umani, peccicara anche te. Farei un correnza al barlume. Come fa il Viviani senza di voi? E mi sa che fa bene uguale la grande merda. Perché? Come sta? Tutto a posto? A saperlo. È sparito da quattro giorni. Quattro. Via, o mi dite così? Ma cosa ti devo dire? Non si trova, non si trova. E come è svanito? È presente volatilizzato uguale. Ma che è uno dei vostri soliti scherzi? Magari fosse uno scherzo. Ah, ben via. Prima mi arriva lui, è onciato in quel modo. Ora arrivate voi due. Non ho capito, scusa. Conciato come? Ma cosa dici? Ma quando è venuto? Tre sere fa. È venuto e mi ha chiesto il rum. Allora ho fatto per preparargli uno sciottino. E invece lui ha voluto proprio tutta la bottiglia. Poi, quando mi si è avvicinato per parlarmi, ho visto che ci aveva gli occhi lucidi, pesti, gonfi. Sa come uno è a pianto tanto? Eh, ma scusa, ma non ti... Togliti dal mio passaggio. Non puoi passare, maledetto demonio. Ah no? Fermi per Dio. Siamo lì per la raccolta dell'offerta. Siamo lì per la benedizione. Sì, siamo il prete, signora. Sono Don Gualtiero. Siamo per la raccolta dell'offerta e la benedizione. Non abbiate paura. Permettete a Cristo di parlare a voi. Che cavolo fai? Fa voi fino nel 2018. Ma che sei scemo? Lo sapevo che ce l'avresti fatta. Ho sempre avuto fiducia in quello che sentivo. Adesso devi continuare il tuo viaggio. E troverai qualcuno che saprà darti tutte le risposte. Io adesso devo andare. Se Mirta non torna, mi ammazzo. Sono sicura che ha fissato con lo sconosciuto. Non c'è altro motivo. Per forza. Gere mio... Come cavolo si chiama? Magari è scappata con lui? Magari è scappata con lui?